Ma se vi attentamente le mostrerò come creare la portentosa... Puzzinitica! Dunque si comincia con... Con... Cosa si comincia? Don, 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 don... Ah, con un barginio! Diciamo pure un maffetto di merguzza! Sapete, col passare degli anni la mia memoria è iniziata a fare cilicca! Così ho trasformato la formula in una cazuricina! Don, 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 don... Don, 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 don... Don, 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 don... Se vorrai sperimentare questa grande luminosità del mare, sono tante cose che dovrai mischiarti. Tutta la tua fantasia è un baffetto di merluso, e l'ingiostro da una piola, fatti prestare. Come il meraviglioso, pesce astigoso, col mondo laggiù, come il fantasmoso, sognare di più. E aggiungere dovrai un po' di animo dentro il mare, mescolando finché puoi ci riuscirai le tue franche preparare, ma prima di assoltarne un poco, le uova di salmone aggiungerai. Come il meraviglioso, pesce astigoso, col mondo laggiù, come il fantasmoso, sognare di più. Nessuno ha mai pensato, tentato, di arrivare fin qui. Io vi dico che è proprio così.